Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per sabato 6 aprile. Sull'Italia si consolida la presenza di un possente anticiclone nordafricano, quindi bel tempo su tutta l'Italia, ma anche intensificazione della siccità su alcune regioni meridionali. Temperature in rialzo al di sopra della media di 4-5 gradi, massime quasi ovunque tra 20 e 25 gradi.